Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City. In apertura alla politica cittadina, con ai nostri microfoni, l'assessore Anna Rita Ottaviano, con delega al bilancio, agli affari dei marittimi e alla questione animali. E intanto gli cittadini torresi lamentano le conseguenze della crisi economica. Questa mattina due cittadini si sono recati a Palazzo Baronale chiedendo un incontro con il sindaco. Vogliamo un lavoro, non sussidi, questo è il loro appello. Caos ieri per le festività di San Valentino, con folla in strada e sul lungomare. Intanto la regione Campania prende provvedimenti più rigidi contro il carnevale e i possibili assembramenti. Intanto si intensificano i controlli proprio per il rispetto della normativa anti-covid. Solo nel weekend la Guardia di Finanza ha sanzionato 51 persone. In conclusione lo sport, con la Turis, che continua una scena negativa, subendo una pesante sconfitta contro il Monopoli. Questo è altro nei nostri servizi. L'azzeramento e quindi il rinnovo della giunta Palomba è avvenuto in una situazione particolare per la città dove ancora andava approvato il bilancio. A che punto siamo? Ne parliamo adesso con l'assessore con delega al bilancio, Anarito Ottaviano. Stiamo a buon punto. Appena mi sono insediata, i primi lavori svolti e quindi le prime delibere riguardano proprio i lavori proprietari al bilancio. C'è stata l'approvazione dell'Imu, dell'Atari, del regolamento, ovviamente lasciando i coefficienti uguali a quelli degli anni precedenti. C'è stata l'approvazione dell'avanzo presunto di amministrazione. Sono tutti i lavori e operazioni tecnici proprietari al bilancio. La prossima è la scadenza, ci stiamo preparando per la scadenza che è fissata per legge al 31 marzo. e stiamo programmando nuovamente la città, le linee programmatiche della nuova giunta, quindi in sinergia con gli altri assessori. Stiamo facendo questo lavoro di condivisione per poi ripartire. Quello del bilancio è appunto un lavoro che comporta la partecipazione di tutto l'esecutivo. Come sta trovando il lavoro con la nuova giunta? C'è collaborazione. Abbiamo trovato degli altri già preparati e predisposti dalla giunta precedente, come ad esempio il DUP che riguarda la programmazione delle opere pubbliche. Ovviamente si tratta di attività che stiamo organizzando in sinergia, anche tenendo conto della programmazione precedente, quindi in modo tale da dare la continuità e nello stesso tempo di ripartire con nuove linee e nuovi programmi. Proprio in tema di passato, questa è la seconda volta che ricevi una delega nell'amministrazione Palomba. Ricordiamo che già è stata assessore due anni fa, dopo le elezioni. Questa riconferma per me è motivo di orgoglio. Sono stata richiamata dal sindaco e sostenuta dalla consigliera Pomposo. Soddisfatti del lavoro fatto in precedenza, adesso sono qui sempre come figura tecnica, soprattutto con i bilanci e tributi. Ho la delega anche all'agricoltura e alla pesca. Mi è stata richiesta questo nuovo aiuto, un nuovo ausilio da parte di questa amministrazione e sono fiera e orgogliosa di poter dare il mio contributo alla città. Delega quindi anche al settore mare e soprattutto al settore marittimo, settore che come sappiamo è critico e essenziale per la città di Torre del Greco. A cosa andiamo incontro con questa delega? La delega riguarda sia, come già detto in precedenza, relativa alla pesca e all'agricoltura, alla problematica dei marittimi e risorsa mare. Una delega molto ampia, in quanto Torre del Greco è la città di mare, città dei marittimi e quindi una situazione a cuore di questa amministrazione. Per il momento abbiamo fatto i primi incontri con gli operatori del settore, sia dell'agricoltura e della pesca, per capire quali sono le esigenze. Insieme alla consigliera Pomposo siamo stati presso gli enti regionali della città metropolitana per capire quali sono le opportunità da poter sfruttare per questa delega. Per quanto riguarda invece la delega relativa alla problematica dei marittimi, questa amministrazione li rappresenta istituzionalmente. Quindi una delega voluta dal sindaco per far sì che, qualora ci sia la necessità, l'amministrazione è presente ed è pronta a rappresentarli dal punto di vista istituzionale. Delega anche per il settore animali, un settore abbastanza critico negli ultimi giorni. Sono sorti alcune problematiche per quanto riguarda la villa d'acquisto e su alcune colonie feline, in particolare sono dei volontari che hanno trovato alcuni animali in situazioni gravi e pietose. Cosa possiamo fare al riguardo? Come possiamo aiutare i nostri amici a quattro zampe? Ringrazio innanzitutto tutte le associazioni del territorio, i volontari e la garante degli animali, degli animali che si è data anche lei da qualche giorno, che sono sempre pronti e aiutano questa amministrazione. In riferimento all'amministrazione abbiamo già preso dei provvedimenti, sia per quanto riguarda il cambio delle acque relative all'oasi che è installata presso la villa comunale, e sia per quanto riguarda il canile, che è gestito da una società cooperativa che si trova a Caivano, dove sono state fatte già le prime visite da parte della stessa garante, con delle fotografie, per vedere lo stato in cui si trovano gli animali del Comune di Torre del Greco, in particolare i cani, e quindi poter poi adottare delle politiche di adozione. Inoltre, per quanto riguarda la problematica invece delle oasi feline, questa amministrazione in bilancio ha previsto sia un capitolo per la creazione di una uova si stessa, e sia delle spese da poter relativamente alla sterilizzazione dei gatti. Siamo fuori Palazzo Baronale, perché voi siete qui questa mattina? Abbiamo chiesto un incontro con il sindaco, ci hanno dato un numero di telefono da chiamare, abbiamo chiamato, mi ha risposto, e mi ha chiesto qual era il motivo per cui volevo incontrare il sindaco, e io ho detto che sono dei motivi prettamente personali e familiari. Mi ha risposto per l'assistenza sociale, se avevo bisogno di assistenza sociale io ci andavo stamattina, non venivo qua a Palazzo Baronale, abbiamo continuato a chiamare lo stesso numero senza avere risposta. Abbiamo chiesto quali sono i criteri e quali sono le gradatorie per il lavoro che ha bisogno il Comune di Torre del Greco, perché vedo un sacco di giovani di 20 anni, 19 anni, con posti di lavoro, e io che aspetto sempre 40 anni iscritti a un collocamento. Secondo lei l'amministrazione comunale quindi non aiuta i cittadini a rialzarsi dopo questa emergenza? No, ma assolutamente, sicuramente farà, ma fa molto poco, ma molto molto poco, fa molto poco, la gente non ha bisogno di pacche alimentari, la gente ha bisogno di soldi per pagare l'affitto, per crescere i figli. Aiutate il popolo che sta in ginocchio, io ho quattro figli, ho dei affitti da pagare, come devo fare? Ditemelo voi, i redditi di cittadinanza, mi dispiace, io sono orgoglioso, io voglio lavorare, non voglio i redditi di cittadinanza, io voglio il lavoro, quello che ho sempre fatto. Vogliamo consegnare la scheda? Non la vogliamo. Io non ce l'ho nemmeno, non ce l'ho nemmeno i redditi di cittadinanza. Ascoltate la voce del popolo, perché siamo noi che viviamo i disagi di tutti i giorni. Ci avete chiuso dentro, ma stiamo morendo di fame. Noi siamo solo venuti qua per i motivi, a chiedere un nostro diritto, educatamente. Educatamente, la prima cosa. Educatamente. Lei è qui per lo stesso motivo? Sì, è lo stesso motivo del mio amico Andrea. Quindi voleva un contatto con il sindaco? Colloquio con un sindaco civile. Se volete lasciare un appello, una richiesta al sindaco? Siamo venuti qua per un colloquio di lavoro, civilmente, e ci hanno trattato malissimo. Ci hanno risposto un segretario al telefono, non so, ci ha risposto male, e non è normale. Non è stata particolare. Folla sul lungomare, ristoranti sold out, traffico paralizzato nel centro di Napoli. Come se il covid non esistesse, il previsto effetto San Valentino si è abbattuto sulla città nella giornata e ieri. In tantissimi, soprattutto coppie ai giovani, a passeggio sul lungomare. Molti indossavano correttamente la mascherina, molti no. Tutto esaurito nei ristoranti, alcuni dei quali hanno accolto a pranzo prenotazioni in due turni per soddisfare le richieste, ma sconcertare soprattutto l'ingorgo creatosi all'ora di pranzo nel centro. Intanto la regione Campania ha preso provvedimenti per evitare un simile caos anche a Carnevale. Con l'ordinanza numero 5, firmata sabato mattina dal Presidente De Luca, è fatto di vieto di feste e di ogni altra forma di aggregazione, in luoghi pubblici e privati, all'aperto e al chiuso, nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma connesse al Carnevale. Si invitano i sindaci ad inibire l'accesso alle piazze ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al Carnevale, fatto salvo il transito per l'ingresso agli esercizi e servizi insistenti. Si ribadisce inoltre che anche alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni in contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e che rimanga a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana, contraddistinto dalle concomitanti festività di San Valentino e Carnevale, il dispositivo dei controlli del territorio avvolti a monitorare il rispetto delle misure anti-Covid. In totale tra venerdì e domenica sono state controllate su tutta la provincia 2.027 persone e 297 attività commerciali, 51 le sanzioni complessive. Cittadini trovati in strada durante il coprifuoco oppure senza dispositivi di protezione individuale o a consumare cibi e bevanti all'interno di bar, queste le principali violazioni registrate. E poi altre situazioni illecite tipicamente di interesse delle fiamme gialle, come gioco tazzardo, contrabbando di sigarette, contraffazione, spaccio di sostanze stupefacenti. Più in dettaglio nel quartiere Secondigliano, nel corso di un controllo presso un internet point, il secondo nucleo operativo metropolitano ha sequestrato una videoslotto non collegata alla rete telematica, sanzionando il titolare per la mancata affissione della tabella dei giochi, oltre che per violazioni anti-Covid. Inoltre tra Sorrento, Saviano, Palma Campania, San Vitaliano e Sant'Antimo sono stati sanzionati 14 esercizi commerciali perché non esponevano all'ingresso dei locali indicazioni riportanti il numero massimo di persone ammesse ad accedere contemporaneamente. A Capri sanzionati il titolare di una palestra più due persone, disposta alla chiusura provvisoria. A Pozzuoli e Casalatore sanzionati tre bar perché alcuni avventuri non indossavano la mascherina o consumavano all'interno oltre l'orario consentito. Inoltre da evidenziare tra le situazioni illecite di diretta competenza delle fiamme gialle, un intervento della compagnia di Pozzuoli che a Licola ha sequestrato in un'abitazione nel corso di una perquisizione ed iniziativa una borsa contenente 12 panetti di hashish per un totale di 1,2 kg. Sette involucri di cielo fanno il sottovoto pari a quasi 100 g di cocaina, un bilancino, un taglierino e 1.135 euro in contanti. Tratti nel resto due responsabili nei cui confronti oggi si celebrerà il rito direttissimo. La compagnia di Giuliano in Campania, a Mugnano di Napoli, ha sequestrato 5,6 kg di TLE di contrabbando ad un cittadino di nazionalità italiana denunciato a piede libero. Infine la compagnia di Casanuovo di Napoli ha effettuato presso un deposito di somma vesuviana il sequestro di 3.520 costumi di carnevale privi del marchio CE nei confronti di un cittadino di nazionalità italiana. Inizia ad essere preoccupante il trend di risultati della Turis, che esce sconfitta dalla trasferta di Monopoli con il risultato di 3-1, un nuovo passo falso che avvicina in classifica proprio la compagine pugliese, ora a meno 4 dalla squadra di Torre del Greco. I tre punti ormai latitano da fin troppo tempo in casa Corallina, dove ci si aspettava sicuramente qualcosa di diverso dall'incontro di ieri pomeriggio, una partita che ha visto i Corallini fin troppo compassati e con pochi assoli dei singoli non capaci di fare la differenza. La squadra di Fabiano paga l'approccio non impeccabile, ritrovandosi sotto di due reti all'intervallo siglate da Soleri e De Paoli. Nella ripresa la Turis cerca di mescolare le carte inserendo il neacquisto ventola e cambiando il sistema di gioco, mossa che non produce gli effetti sperati, seppur i Corallini provino ad ogni costo a riaprire la gara. Un atteggiamento sfrontato che costringe la Turis ad esporsi ai contrattacchi del Monopoli, che al 69esimo trova la rete del 3-0 chiudendo così ad ogni tentativo di rimonta. Inutile la rete di Giannone che al 74esimo prova a rimettere in piedi una partita mai seriamente in discussione per i padroni di casa. Nel finale l'espulsione di Dada Alt per doppia munizione, Tegola che va a falcidiare ulteriormente un momento di forma tutt'altro che esaltante per la Turis. Continua intanto ad accorciarsi in margine di vantaggio a dispetto della zona retrocessione che dista dopo la partita di ieri 10 punti. Un distacco che al momento ancora non è motivo di apprezzione, ma il digiuno di vittoria continua ad alimentarsi. Campanello d'allarme da non sottovalutare per mantenere a distanza di sicurezza i play-out. Mercoledì, la sfida al Palermo. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti.